Una partita dove la possibilità di utilizzare tutte le componenti della rosa è stata in realtà, una partita aperta, una partita che entrambe le squadre potevano vincere, BSC non ha vinto. Sì, bisogna essere onesti, tutte e due le squadre credo che era giusto usare queste gare qua anche per gratificare e far giocare anche chi sta giocando un po' meno, anche perché può tornare molto utile, per esempio noi con la sfortuna che abbiamo avuto quest'anno non avessimo avuto una panchina pronta, non riusciremo a fare le gare tipo quelle di domenica, quindi grandi prestazioni. Stasera, ho detto alle ragazze, per me la gara era solo inserire la nuova giocatrice perché l'abbiamo vista per due giorni, deve inserirsi, quindi era un buon momento per metterla in campo, vedere un po' cosa sa fare, farla integrare e fare un paio di cose tecniche che ci interessavano. Terzo, dare spazio soprattutto a chi quest'anno sta facendo un mazzo così e ha poche soddisfazioni. La classifica del campionato è rosea? Non lo so, mi fanno sempre queste domande, sono sincero, l'unica che sa queste cose è mia figlia piccola che mi informa, ma non lo so, io non guardo perché, come ho detto anche a Brescia, abbiamo battuto la prima in classifica, ma quello che mi interessava era vedere le mie ragazze molto sul pezzo, molto aggressive e con una spensieratezza buona. A me interessa solo quello, quindi mi interessa in settimana il lavoro che facciamo e come giochiamo. La classifica, devo essere sincero, non la conosco. Beh, ribadisco che è rosia, ma cambiamo discorso visto che non ti piace. La settimana tipo sta diventando una settimana nella quale si provano tante cose che poi la domenica, ma anche stasera, riescono. Sì, 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 noi ecco, una delle cose che ha detto loro stasera è un allenamento normale, l'abbiamo programmato in tutto e per tutto come un allenamento normale, non per snobbar la Coppa Italia, ma perché comunque bisogna avere risorse ed energie. Noi in questo momento qua, nonostante il livello di gioco alto, siamo un po' in difficoltà fisica. La perda dei pomili è stata gravissima. Abbiamo un paio di giocatori, scacchetti, pistolesi, che non sono ancora ristabilite fisicamente. Più qualche acciacco in spellone, abbiamo avuto un po' di problemi domenica, per cui devo anche farlo un po' fiatare. Quindi queste situazioni qua, queste gare qua, non è snobbare, ma dobbiamo avere delle priorità. Ripeto, ma penso sia normale. Mi è piaciuta la partita perché poi alcune risposte ci sono state. Anche perché io ho bisogno di sapere, anche i giocatori fuori, se ci sono. Tipo Masciullo non gli avevamo ancora dato una buona occasione per mettersi in mostra. È una ragazzina, ma stasera ha fatto il suo perché. Cappi ha bisogno di minuti, perché qua ci ha risolto la gara entrando, quindi ho bisogno di vedere un po' queste situazioni qua. Ripeto, sono contento perché ho fatto fiatare qualche giocatrice e usiamo questa Coppa per fare un po'. Il mercoledì lo usiamo per fare esperienza. Però domenica si ricomincia. Eh sì, domenica si ricomincia e si comincia difficile perché sembra strano dirlo, ma sai, andare a fare un partitone a Brescia, è chiaro che per battere Brescia, visto che non l'aveva mai perso in casa, devi essere bravo. Quindi fare i partitone con le squadre forti c'è. Cremona è una squadra difficile che lotta su tutti i palloni e è lì che si dimostra di essere una grande squadra. Quindi noi adesso abbiamo bisogno di recuperare un po' di energia, abbiamo bisogno di un paio di giorni di allenamento, perché stessa settimana ne perdiamo due. Abbiamo bisogno di lavorare bene un paio di giorni, andare a Cremona e secondo me sarà una gara molto difficile, ma parecchio, la temo molto.